Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Magari complicano. Altra proposta di legge, quella sul reato universale in riferimento alla gestazione per altri. Buona idea? Guardi, io ho presentato una proposta di legge uguale nella scorsa legislatura, ragione per cui sono orientata naturalmente a votare a favore della proposta di legge di Fratelli d'Italia. Non mi sfuggono, perché è ovvio che poi nel corso del tempo ci sono approfondimenti, mi sono confrontata con giuristi, costituzionalisti, non mi sfuggono le perplessità. Tipo come si fa a perseguirle in tutto il mondo? Non solo come si fa, ma c'è chi dice per esempio che il bando universale contrasta con il principio di ragionevolezza perché la pena minima è di tre mesi, quindi è inferiore rispetto ad altri reati che non sono poi perseguibili all'estero. Già oggi è possibile perseguire delitti che vengono commessi all'estero, ma quando questi corrispondono a comportamenti che sono marchiati da un disvalore, come dire, riconosciuto universalmente. Penso alla pedofilia, alla riduzione scheritù. In questo caso però non stiamo parlando di questo perché in altri paesi è legale. E' anche inutilmente sopra le righe e anche inutilmente offensivo perché tra noi oggi vivono centinaia di bambini che sono nati dalla maternità surrogata. E questi li registriamo oppure no? E questi bambini possono essere registrati, sono già registrati attraverso una soluzione che è stata indicata dalla Corte di Cassazione come quella che più tutela l'interesse del minore. E cioè l'adozione del figlio del partner, l'adozione in casi speciali... E lei però sa che è un percorso assai complicato e che se interviene un accidente, cioè l'altro genitore muore, quello biologico muore, quel bambino va in una situazione di difficoltà estrema. Se non è stato adottato. Dice ma è un caso, certo, ma anche se si sta lavorando per... Dice ma è un caso, secondo me anche per un caso bisogna ragionare. Però la legge è la legge, no? E anche la Cassazione si è pronunciata. E deve prevedere tutte le possibilità. Magari proviamo a rendere più facile, più veloce il processo di adottabilità. Però mi sembra saggia, onestamente, l'indicazione della Corte di Cassazione. Perché in questi casi è giusto prevedere che ci sia un supplemento anche di valutazione, di monitoraggio, no? Sulle condizioni, sul contesto in cui il bambino va a crescere. Allora, la tengo un attimo perché voglio sentire Claudio. Che ci sia un linguaggio rispettoso. No, ma questo noi tutti i giorni ce l'auguriamo e spesso non l'abbiamo sentito questo linguaggio. O addirittura criminalizzarli sarebbe un errore. Claudio, questo è un...